Nicola Molteni, ancora profughi in provincia di Como e sono arrivati senza che il sindaco e le forze dell'Odine sapessero nulla? L'ennesima invasione in terra a Comasca, questa volta all'Urago d'Erba, una vicenda che è stata segnalata dal nostro bravo consigliere comunale Cristian Magni. Otto profughi, otto immigrati, otto clandestini accolti, ospitati, convitto e alloggio gratuito in una abitazione privata senza che l'amministrazione comunale, senza che le forze dell'Ordine sapessero nulla. Non sappiamo da dove vengono, non sappiamo se hanno precedenti penali, non sappiamo se si portano con loro rischi di natura sanitaria. Abbiamo chiesto al ministro Alfano, che è il ministro che rimane comunque il ministro dell'invasione, di fare chiarezza. Il territorio comasco non può più sopportare, con una crisi o con una povertà che sta colpendo anche i nostri territori, questa invasione, i cui costi sono a carico della comunità lariana. Siamo stanchi, siamo stanchi di pagare, soprattutto alla luce di quello che si sta verificando in quella di Roma, siamo stufi di pagare il business dell'immigrazione clandestina, che beneficiano in pochi e le cui conseguenze negative rischiano di ricadere su tutti i cittadini comaschi.